Per quanto mi riguarda io ero attratto da Don Quixote, anzi il mio primo ruolo è stato quello del torero nel Don Quixote. È stata un'esperienza bellissima che poi si è ripetuta tante volte al teatro dell'opera di Tirana. Sono dei balletti di repertorio che hanno fatto la storia e lo faranno perché è difficilissimo e sarà difficile che si reinventano altri balletti che fanno parte di un'epoca di danza quando sono stati inventati. Penso che i bambini sono sempre stati attratti dalla danza perché la danza ti porta in un'altra dimensione, in una dimensione dove si sogna, dove si sente per un attimo la ballerina al grande teatro che tutte le bambine vogliono diventare in un futuro. Poi sicuramente è una disciplina che insegna dei valori fondamentali per la vita soprattutto, al di là che poi servono per diventare un bravo ballerino, cioè educazione, disciplina, forza di volontà, rispetto per il prossimo. Sono tutti questi valori che poi saranno utili a ragazzi in tutti i settori della vita, nella vita quotidiana. Andare in teatro è fondamentale perché ci si trovano dei punti di riferimento, di ispirazione per questi bambini. Al di là del loro lavoro quotidiano, del loro studio quotidiano che fanno nelle loro scuole, è importante relazionarsi e prendere da esempio vedendo, guardando, guardando tanti balletti e frequentando il teatro. Visto che danza e teatro vanno a pari passo, è indispensabile andare in teatro. È davvero una cosa incredibile! Sì! Sì!